Buongiorno ben ritrovati in questo nuovo appuntamento meteo prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare like attiverà la campanellina parliamo oggi del tempo previsto sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi due giorni giovedì e venerdì quando a partire dalla notte odierna i primi nuclei temporaleschi provenienti da nord dovrebbero sfondare sul Piemonte e sulla Lombardia proprio su queste zone nella giornata di domani si verrà a creare una forte linea temporalesca che dall'alto Piemonte dall'alta Lombardia dovrebbe scendere su tutta la pianura padana investendo in maniera molto intensa proprio il Piemonte la Lombardia la Liguria e il basso Veneto portando il rischio di nubi fragili molto intensi grandinate di medio grande dimensioni e possibili tornado avremo accumuli precipitativi che potrebbero sfiorare i 300 mm nelle aree più colpite a colpi di vento con raffiche fino a 100 chilometri orari